gli audio racconti serie gialli e thriller d'america la mia prima avventura con la macchina pensante di Jacques Foutrelle letto da Damien una volta ebbi la grande fortuna di conoscere di persona il professor Augustus SFX Van Dusen PHD, LLD, FRS, MD ecc. L'incontro avvenne per un fatto singolare che fu per me tanto sconcertante quanto pericoloso infatti il suo intervento mi salvò la vita e nel processo di riportarmi indietro dall'aldilà da quel confine nebbioso e terrificante che separa la vita dalla morte ho avuto la piena opportunità di assistere al funzionamento di quel cervello meravigliosamente acuto e freddo che ha fatto di lui il più illustre scienziato e logico del suo tempo. È stato solo qualche tempo dopo tuttavia che il professor Van Dusen è stato da me ribattezzato la macchina pensante. Quella sera avevo cenato all'hotel Theutonic quando presi un sigaro dalla tasca lo accesi e cominciai a passeggiare per il Boston Common. Erano le otto passate di una di quelle serate limpide e tiepide d'inverno. Ero vicino al centro del Common su uno dei tanti piccoli sentieri che portano verso Bacon Hill quando mi resi conto di un dolore acuto al petto, un improvviso accelerare del battito del cuore e una costrizione in gola. Le luci in lontananza cominciarono a vacillare e ad affievolirsi. La sudorazione si diffuse in tutto il mio corpo a causa di un'agonia interiore e lancinante che diventava ogni momento più intensa. mi sentivo barcollare, il sigaro mi cade dalle dita e per sorreggermi mi aggrappai ad una panchina. Non c'era nessuno vicino a me. Tentai di chiamare aiuto, poi tutto divenne buio e mi lasciai a terra quasi svenuto. Il mio ultimo ricordo fu quello di una figura che si avvicinava a me e le ultime parole che sentii furono un petulante ed irritabile «Oh povero me!» e poi persi del tutto i sensi. Era un uomo che non avevo mai visto prima di allora. Una grande chioma di capelli giallopaglierino che cadeva su una fronte alta e larga. Un viso piccolo, rugoso e petulante. Il viso di un bambino anziano. Un paio di occhi azzurri e acquosi che strizzavano aggressivamente attraverso spessi occhiali e una bocca dalle labbra sottili, dritta come il segno di un coltello da chirurgo, tranne per gli angoli che cadevano verso il basso. La mia impressione allora fu che si trattasse di una specie di allucinazione, il capriccio distorto di un cervello disordinato. Ma poco a poco la mia vista si schiarì e la stretta delle dita sottili sul mio polso mi fece capire la realtà dell'apparizione quando finalmente ripresi conoscenza. Come si sente? Le labbra sottili si erano aperte quel tanto che bastava per far uscire la domanda. Il tono era asciutto e ostile e la voce rantolava sottile in maniera quasi sgradevole. Allo stesso tempo gli occhi strapici erano puntati sui miei con uno sguardo fisso e penetrante che mi metteva quasi a disagio. Cercai di rispondere ma la mia lingua si rifiutava di muoversi. Lo sguardo continuò per un istante, poi l'uomo, la macchina pensante, si allontanò e preparò un intruglio dall'odore particolarmente sgradevole che mi costrinse a bere. Ero di nuovo nel mondo dei sogni. Dopo un po' di tempo, potevano essere stati minuti o ore, sentii di nuovo la mano sul mio polso e di nuovo la macchina pensante mi offrì il suo sguardo. Un'ora dopo ero seduto sul divano con il cervello sgombro e un battito cardiaco quasi normale. Fu allora che appresi perché il professor Van Dusen, un eminente uomo di scienza, avrebbe ottenuto il soprannome di la macchina pensante. Capì in prima persona come le confusioni materiali fossero così immancabilmente dissipate dalla sua logica pura ed infallibile. Ricordate che ero entrato in quella stanza come una cosa inanimata, inerte, incosciente, mentalmente e fisicamente morta a tutti gli effetti, ben oltre il punto in cui avrei potuto far fogliare nel dormiveglia qualsiasi pensiero chiarificatore. E per favore, ricordate anche che non sapevo, non avevo la più pallida idea di quello che mi era successo, a parte il fatto che ero svenuto. La macchina pensante non mi fece domande, eppure fornì tutti i dettagli mancanti, insieme ad una serie di mie faccende intime e personali di cui lui personalmente non poteva assolutamente essere a conoscenza. In altre parole, io ero un problema astruso ed incomprensibile e lui mi ha risolto. Con la testa inclinata all'indietro contro il cuscino della sedia, e che testa ve lo assicuro, con gli occhi incessantemente rivolti verso l'alto e le punte delle dita pigramente unite, se ne stava lì una strana grottesca piccola figura seduta in mezzo al suo laboratorio. Non mostrò il minimo interesse per me o la mia persona, nemmeno per un momento. Era come se fossi stato scritto su una lavagna per essere cancellato quando fossi stato risolto. «Le era mai successo prima?» chiese bruscamente. «No», risposi. «Cos'è accaduto?» «È stato avvelenato». Il veleno era un sublimato mortale e corrosivo. Bicloruro di mercurio, molto probabilmente. Lo shock è stato molto forte, ma si rimetterà in... «Avvelenato!» esclamai agghiacciato. «Chi mi ha avvelenato? E perché?» Si è avvelenato da solo. È stata una sua negligenza. Nove persone su dieci maneggiano il veleno come se fosse una caramella. E lei ricade all'interno di queste nove persone. «Ma non avrei potuto avvelenarmi. Non ho avuto occasione di maneggiare veleni da... da non so quanto tempo». «Oh, io lo so da quanto. È stato quasi un anno fa, ma il sublimato corrosivo è sempre pericoloso». Il tono mi irritò. L'arroganza impassibile del piccolo uomo infiammò il mio cervello vacillante. E non sono sicuro di non avergli puntato il dito in faccia. «Se sono stato avvelenato...» dichiarai con una certa fuga. «Non è stata colpa mia. Qualcuno me l'ha somministrato. Qualcuno ha cercato di...» «Si è avvelenato da solo, le dico. Ah, cerca scuse come un bambino». «Come fate a essere certo che mi sono avvelenato? Come fate a sapere che ho maneggiato un veleno? E come fate a sapere che è stato un anno fa, se mai l'avessi fatto?» La macchina pensante mi guardò freddamente per un istante. E poi, quei suoi strani occhi vagarono di nuovo verso l'alto. «So queste cose così come so il suo nome, l'indirizzo e la sua professione dai documenti che ho trovato nelle sue tasche. Così come so che fuma da una mezza dozzina di sigari che le ho trovato addosso. Così come so che indossa quei vestiti per la prima volta quest'inverno. Così come so che ha perso sua moglie da pochi mesi, che all'epoca possedevate una casa e che questa casa era infestata dagli scarafaggi. Lo so come so anche tutto il resto, in base alle regole di una logica ineluttabile». Mi girava la testa, lo fissai con vuoto stupore e gli dissi «Ma come fate a sapere tutte queste cose?» «L'uomo medio di oggi», rispose lo scienziato, «non conosce nulla se non quello che trova scritto e messo sotto il suo naso. Ma si dà il caso che io sia un medico, oltre che un uomo di scienza. L'ho vista cadere e sono venuto subito da lei. Il mio primo pensiero è stato un problema di cuore, ma il suo polso ha mostrato che non era quello e ovviamente non poteva essere nemmeno apoplessia. Ora, non c'era alcun motivo visibile per cui lei dovesse crollare in quel modo. Non c'era stato alcuno sparo, non c'era alcuna ferita, quindi ho supposto che si trattasse di veleno. Un esame più approfondito ha confermato questa prima ipotesi. I suoi sintomi hanno mostrato che il veleno era bicloruro di mercurio. L'ho messa su un taxi e l'ho portata qui nel mio laboratorio. Dal fatto che non era morto, sapevo che il suo organismo aveva assorbito solo una minima quantità di veleno. Una quantità così piccola che dimostrava immediatamente che non c'era stato alcun intento suicida. E indicava anche che non era stato qualcun altro a somministrarglielo. Se questo era vero, sapevo, non ho tirato ad indovinare, lo sapevo, che l'avvelenamento era stato accidentale. Ma quanto accidentale? La mia prima supposizione, naturalmente, fu che il veleno fosse stato assorbito per bocca. Ho rovistato nelle sue tasche e l'unica cosa che ho trovato che si metteva in bocca erano i sigari. Erano forse loro ad essere avvelenati? Un test ha dimostrato che lo erano tutti. Ma l'intento era quello di uccidere? No, non era stato usato abbastanza veleno. Allora ho supposto che il veleno potesse essere contenuto nella gomma usata per legare il sigaro. Possibile, certo, ma non probabile. E allora? Abbassò lo sguardo e mi guardò di traverso in modo aggressivo. Scossi la testa e, mosso da un ripensamento, chiusi la bocca spalancata. Probabilmente aveva in tasca del sublimato corrosivo. Io non ne ho trovato, ma forse una volta poteva averlo avuto. Così ho strappato la tasca del cappotto in cui ho trovato i sigari e l'ho fatta analizzare in laboratorio. Un tempo nella tasca c'era stato del sublimato corrosivo sotto forma di polvere o di cristalli e, in qualche modo, forse a causa di un'imperfezione della confezione, una piccola quantità si è riversata nella sua tasca. E qui c'era una risposta ad ogni domanda e anche di più. Da qui ho potuto capire come i sigari sono stati avvelenati e, unitamente all'etichetta del sarto nella sua tasca, anche a conoscere una breve storia della sua vita. In sintesi, è andata così. Tempo fa ha avuto in tasca del sublimato corrosivo. A quale scopo? Primo pensiero. Per liberare la sua casa dagli scarafaggi. Secondo pensiero. Se lei fosse stato a pensione, sposato o non sposato, il compito di sbarazzarsi degli scarafaggi sarebbe stato lasciato alla padrona di casa. Così ho supposto per un istante che lei avesse una casa di proprietà, che fosse sposato e che avesse comprato il veleno per occuparsi personalmente di questo tipo di incommenza. Senza alcuno sforzo, quindi, ho dedotto che fosse sposato e che fosse proprietario di una casa. E poi? L'etichetta del sarto, con il suo nome e la data in cui è stato fatto il cappotto. Un anno e tre mesi fa. Un cappotto invernale, quindi. Se l'avesse indossato quando il veleno si è liberato nella sua tasca, quello che le è successo stasera le sarebbe accaduto prima. Quindi, ho dedotto che lei abbia acquistato il veleno all'inizio della primavera scorsa, quando gli insetti hanno cominciato ad essere fastidiosi, e subito dopo ha messo via il cappotto fino a quest'inverno. Era chiaro che stava indossando il cappotto per la prima volta quest'inverno per via del leggero odore di naftalina che questo emanava. Infine, una fascia di tessuto crespo sul cappello, l'immagine di una giovane donna nell'orologio, e il fatto che ora vive nel suo club, come dimostra il conto che le ho trovato addosso, stabiliscono senza ombra di dubbio che lei è vedovo. Tutto ciò è assolutamente miracoloso. Logica, 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 scattò il piccolo ed irritabile scienziato. Lei è un avvocato, dovrebbe conoscere la correlazione dei fatti. Dovrebbe sapere che due più due fa quattro. E non qualche volta, ma sempre. Poco dopo, lasciai in perfetta forma il laboratorio del professor Van Dussel, e passeggiando verso il mio club, mi ripetevo che avrei dovuto scrivere di quella volta che la macchina pensante mi aveva salvato la vita. Gli audio racconti. Serie. Gialli e thriller d'America. La mia prima avventura con la macchina pensante. Di Jacques Foutrelle. Letto da Adam. Gli audio racconti. Egli che la prima volta, la mia casa! Grazie a tutti.